Siamo con Massimo Frattolillo, tecnico del Fossano. Una prima sconfitta che arriva nel derby, rimanete primi. Due domande volevo farti. La prima è stata più determinante la presenza di Armato, un attaccante della prima squadra della Serie D, o gli errori insoliti che si è visti tante volte in fraseggio. Avete fatto buone frazioni di gara nel primo tempo, nel finale, poi il rigore è sbagliato, però volevo sapere un po' la tua analisi della partita. Ovviamente abbiamo sbagliato tanto rispetto al solito, forse un po' di nervosismo strano, perché comunque non abbiamo caricato la partita assolutamente, l'abbiamo fatto come le altre. Forse ci sta, dopo molte gare e perdere, quindi penso che sia nella normalità. Abbiamo perso giustamente, non abbiamo fatto bene, anche se poi nel momento in cui potremmo rimettere un po' a posto gli episodi, ci sono già un po' contro, però è il calcio. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, quanto può essere un aspetto positivo questa sconfitta nel derby per il gruppo? Quando si perde c'è sempre qualcosa da andare a prendere, per cercare di migliorarsi. Sicuramente qualche errore è stato fatto, si ripartirà da questi errori, con la serenità e continuare a lavorare come stiamo lavorando. Siamo molto sereni di questo, perdere fa male, fa male, no? La franca è uscito anzitempo, come sta? Per il sentimento muscolare abbiamo preferito tirarlo subito fuori. Va bene, grazie mille.